ciao amici di overmind benvenuti a tempo per te oggi siamo in compagnia come sempre con nostro amico cristian giardullo buongiorno a te parleremo come sempre della cura della persona e quindi parleremo un po di acconciature make up e vediamo oggi cosa ci propone il nostro cristian oggi proponiamo un semi raccolto sul davanti raccolti sul dietro sciolti lisci semplicissimi da tranquillamente da poter fare a casa anche per andare in ufficio ottimo quindi facciamo questa pettinatura e vediamo un po come andare l'ufficio magari un po anche in un modo diverso e non semplici semplici cristian ti chiedo ma questa acconciatura può essere fatta anche su capelli che su un capello lungo ok quindi è un'acconciatura anche abbastanza versatile quanto abbastanza perché raccogliamo solo il davanti perfetto vedo che sta raccogliendo con questo pettine il laterale e poi il dietro con dei ferretti in maniera molto semplice davvero molto elegante e semplice da poter andare in ufficio ho visto che prima sul davanti ha preso delle ciocche le hai col pettine arrotolate e si può usare il termine cotonate ok ok perfetto quindi viene un po come dire un po più gonfria come sulla parte anteriore anche un po risistemata col petto così sempre poca manca perché non amico per il molto laccato ok va usato qualche prodotto prima può essere fatto sul capello anche magari fa fare una semplicissima piastra ok come pettinatura può essere fatta sul capello appena lavato anche sul capello dove magari il giorno prima lavato che su un cappello un po più sporco ok perfetto quindi un'acconciatura era un'acconciatura rapida veloce da poter utilizzare sia per l'ufficio che per il tempo libero anche magari per una serata in compagnia perché no anche per oggi vi salutiamo grazie ancora a cristian e ricordiamo dove hai il tuo salone di bellezza dolomiti 33 verona perfetto quindi quando volete andare da cristian e bicoccolerà nel suo negozio ciao a tutti